Buongiorno ai riders appassionati e benvenuti al quarto e penultimo appuntamento con i trofei moto estate In cabina di commento con voi dall'autodromo di Franciacorta Alberto Fontana Speaker del portale racebooking.net Ed Edoardo Mazzuoli, pilota del team BR Corsa che quest'anno disputa il Civ 600 Supersport Ciao a tutti Prima di partire con la gara vi ricordiamo per chi non lo sapesse Che il servizio che state prevedere è un servizio opzionale che viene acquistato dai piloti E che non è incluso nel costo di iscrizione alle gare Esattamente come le foto, chi le vuole le compra, chi non le vuole non le acquista Per questo motivo vengono riprese i nominati soltanto alcuni dei piloti in gara Ovvero coloro che hanno acquistato il servizio video Dando loro ampio spazio indipendentemente dalla loro posizione in greglia Fanno eccezione naturalmente i primi tre che per questioni di merito vengono comunque ripresi brevemente Per informazioni dettagliate, prenotazione e acquisto vi invitiamo a visitare il sito in sovraimpressione Stiamo per assistere alla prima manche della Race Attack Rivoluzionaria formula ideata dagli organizzatori dei trofei moto estate Una formula che ricorda un po' quella del Superbike ma tenendo una filosofia low cost Ovvero due turni, si corre in un solo giorno però si fanno due gare Tutto la domenica Tutto la domenica, due turni al mattino, due gare Uno prove, uno qualifiche Esatto, due gare al mattino E due gare sprint da 5 giri l'una Esatto, due gare al pomeriggio da 5 giri l'una, da 6 giri l'una Quindi come in Superbike c'è gara 1, gara 2, chiaramente gare sprint Anche chi è poco allenato per 6 giri comunque riesce a dare il meglio di sé E il successo di questa categoria penso sia determinato dal numero di partenti in griglia Esatto Griglia piena E veramente da rabbrividire, 33 moto in griglia oggi Battuto ogni record Così come la pole position di Giuliano Ferrari Che col tempo di 1,16 e 0,95 ha strappato una pole position straordinaria davanti a 32 piloti Ferrari tra l'altro arriva da 10 anni di stop dalle gare Questa qua è la sua prima gara dopo 10 anni Insomma dedica a questa pole Si ricordava bene come si corre Dedica a questa pole e tutto quello che verrà dopo alla famiglia e alla sponsor Seconda posizione per Nicola Sartori Che lì ha un passo da Giuliano Ferrari a 1,16 e 1 20 millesimi 20 millesimi da Giuliano Ferrari Quindi tempi da urlo, da capogiro per questi primi 4 piloti 4 piloti in un secondo In mezzo secondo Infatti il terzo in classifica Graziano Mele ha la sua prima gara in assoluto nella vita Si è classificato terzo partendo dalla prima fila con la sua Yamaha R6 Col tempo di 1,16 e 424 Semplicemente straordinario Seconda fila aperta da Angelo Pilla Ormai è una conoscenza nota di questo campionato Colui che può giocarsi il campionato che è in alto nella classifica In quarta posizione 1,16 e 559 Il suo miglior tempo Tra l'altro ricordiamo che Angelo Pilla aveva distrutto la moto in un high side Adesso ha una moto nuova che gli è stata prestata da Nova Race Che tra l'altro ringrazia tantissimo E insieme a loro ringrazia anche il Birrificio La Tresca La carrozzeria Vozza Il TTN Racing Club Che oggi schiera tantissimi piloti Tra cui Pilla, Tettoni, Gasparini e tanti altri Quinta posizione per Monti Seguito da Signorelli Signorelli oggi fa due gare Non una ma due Anzi tre Tre gare Le due della race attack più quella della 1000 Revisionare il motore dopo il weekend Mamma mia Anche il fisico Revisionarlo perché sarà morto dopo il weekend Anche perché stamattina ha fatto un turno di qualifiche Più due turni di qualifiche Più tre gare il pomeriggio Quindi tre turni Domani fede dal lavoro Domani morirà Tanto Signorelli girava in 15 Adesso gira in 17,9 Quindi ho un problema alla moto che l'ha condizionato dopo il weekend Oppure una defiance Perché non ce lo spieghiamo Dato che Signorelli comunque Dato il chilometraggio Aveva vinto la race attack precedente È vero È vero Terza fila aperta da Julian Mario Sivan Seguito da Manuel Elberghini Anche lui alla prima gara della vita La sua moto la vedrete lontano un chilometro Perché è quella giallo fluo Parte col tempo di 1,18 E 259 Dovrebbe partire nona Ilaria Roldi Purtroppo si è schiantata Si è mezza fratturata una gamma Ma l'ho vista l'altro giorno che saltellava per il paddock Quindi magari se era semplicemente Vuolare mai dai Un abbraccio a Ilaria Speriamo di vederti in prista per la prossima gara E in bocca al lupo per la tua guarigione Ci vediamo a Varano Quarta fila aperta da Stefano Tammaro Altra conoscenza di questo campionato 1,18, 588 Suo miglior tempo Partirà dalla decima posizione Con il numero 22 In decima posizione Detto di lui Matteo Vinco Carlo Carminati Poi quinta fila aperta da Alessandro Manfredda Daniele Dionisi Non siamo abituati a vederlo così indietro Partiva più avanti di solito Un altro che come Fabio Signorelli oggi È leggermente in crisi Col tempo di 1,19 Uno partirà a quattordicesimo Lui che è uno che è arrivato a podio In mezzo alla mischia adesso Esatto Lui che la scorsa gara Si era giocato la prima posizione La vittoria con Signorelli Insomma è successo Si è ribaltato qualche ordine naturale del cosmo Per cui Dionisi oggi Non va come dovrebbe andare Dietro di lui Giuseppe Palio Chiude la fila Sesta fila aperta da capelli Seguito da Alberto Gasparini Altro pilota del TTN Racing Club Gasparini che tra l'altro È uno di quelli più avanti Nella classifica Del campionato Infatti nella classifica Della 1000 È secondo Ha un passo da Selvatici E Gasparini Si sta giocando La vittoria del campionato Categoria 1000 Dietro di lui Stefano Mazzilli Poi la fila successiva È aperta da Poncini Cesare Tricerri A bordo di BMW E guardate quanto sono vicini Dionisi 14esimo 1-19-1 Tricerri Ventesimo 1-19-8 Se fosse migliorato di 7 decimi Saresti 4 file più avanti Tricerri Corre su BMW Numero 85 Dietro di lui Poi troviamo Capoferri Mario Gentile Angelo Pezzano Roberto Baroni 1-20 E 487 Il suo tempo Anche lui comunque vicino Se si considera Che tra Gasparini E lui passano Sette posizioni Per un secondo di distacco Esatto Veramente Poca 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 roba Parte 24esimo Col tempo di 1-20-487 Chissà che non riesca A fare una bella gara Sorpassando anche i piloti Avanti a lui Attardato Selvatici Esatto Selvatici 1-26 Il leader della classifica Parte un po' indietro Più indietro Luca Tettoni Con la moto Col suo tempo di 1-20-663 Moto numero 69 Anche lui categoria 1000 Suzuki 1000 Un po' datata La sua moto Di motore Non può competere sicuramente Con le BMW Nuovissime Ma L'abbiamo visto fare Dei bei sorpassi Anche nella gara precedente E' uno che di bagarne fa Se ne deve fare Vediamo che ci faccia divertire Anche oggi Più indietro poi troviamo Ballabio Angelo Santo Nardini Nardin Scusate Enrico Rocchi Alberto Decio Luzzatto Luca E Eulari Flavio Che chiudono così Lo schieramento 33 moto Moto Presenti sulla griglia A perdita d'occhio Che si stanno schierando Proprio adesso Per il via Di questa gara Che si pronuncia Bollente Scottante Infuocata Tante tante carte Rimescolate Già prima di partire Tanta voglia di vincere Tanto gas Si parte E che vinca Il migliore Giuliano Ferrari è partito bene Guarda Pilla Che impennata Che ha fatto Seconda terza Così come Sartori Prima, seconda e terza Impennata Ma Graziano Mele Ha beffato Tutti quanti Con una partenza Semplicemente perfetta Semplicemente straordinaria Graziano Mele Ha colto tutti di sorpresa E si è portato così Al comando Di questa gara Daniele Dionisi Intanto sta già scatenando All'esterno come va La sua solita Bagarre Esagerata Guardalo lì Come va a passare Tutti Dove gli capita Destra, sinistra Sopra e sotto Se ne frega Mentre Mele Sta allungando Su Giuliano Ferrari Quindi Attenzione perché Ferrari Che padronanza della situazione Che partenza Pazzesco Se si considera Che Mele Ha la sua prima gara Nella vita Guardatelo lì Dov'è In testa Alla gara Davanti a Giuliano Ferrari E davanti Nicola Sartori Guardatela a Dionisi Oh intanto c'è una caduta Caduta davanti a Signorelli Pericolose queste cadute Pericolosissima Han dovuto inchiodare Tutti quanti Per evitarlo Fortunatamente Non ci sono stati I tamponamenti a catena E intanto Ne approfitta Signorelli Per infilarsi all'interno E sopravanzare la moto Numero 37 Luca Tettone Intanto sta scatenando La solita bagarre Di cui parlavo in precedenza Sorpassi Mica sorpassi Attacchi da tutte le parti Ed è riuscito così Nella curva a passare Intanto questo pilota Si sta chiedendo Che cosa sia successo Si starà interrogando Forse sul suo scopo Nella vita Era lì che guardava Nel vuoto Dicendo Ma Cosa faccio qui Perché la vita esiste Insomma lo vedevo Un po' perso nel vuoto Là in mezzo E intanto Si sta per accendere Quella lotta Che l'hanno già visto Alla scorsa gara Della Race Attack Tra Dionisi e Signorelli Peccato che Prima si stavano giocando La vittoria Hai visto che Eh sì 1000 contro un 600 600 insomma Ma una L'Emevogus Da che cilindrata è 675 675 Vedi che non è un 600 Ma è un 675 È categoria 600 Non è un 599 CC Come si scrivono sul libretto Virgola 999 Ma è un 675 E guardalo qui Tetoni Che fa valere la potenza Della sua Suzuki 1000 Non nuovissima Ma comunque un 1000 Vale più di un 600 Sul rettilineo Prova l'attacco Ma quel pilota Là davanti è staccato più forte Quindi Tetoni Che sembrava essere Così convinto Di aver passato Il pilota Per poi gettarci All'attacco del successivo Che è Baroni Si deve accodare Si deve accodare Giuliano Ferrari Intanto è lì Che prova L'attacco Sulla moto di Graziano Mele Guardatelo lì Ferrari Come prova l'attacco Mamma mia Come ha staccato forte Gli ha chiuso la porta In faccia Come ha staccato forte Graziano Mele È straordinario Intanto Tricerri Guardatelo qui All'attacco Della moto Rosa e blu All'infondo La prima curva Tricerri Con la sua BMW bianca Nr 85 Era uscito In un bel sorpasso pulito Questa volta Tetoni Ormai Era vicinissimo Già in uscita Non ci ha pensato su due volte Ed è riuscito a sopravvanzare Quel pilota Che prima gli aveva tirato La staccatona Graziano Mele Intanto Con una confidenza Col mezzo Semplicemente straordinaria Con una lucidità E una freddezza Incredibile Sta guidando La gara davanti A Giuliano Ferrari Che ha una voglia di vincere Che la metà basta Seguono via via Tutti gli altri piloti Abbiamo visto poi Sartori dietro Ferrari Intanto Oh la davanti Che bagarre Li vediamo spilare adesso Mele Ferrari Sartori Pilla Che stanno facendo ormai Una gara a 6 Pilla Inquadrato proprio adesso Con la moto numero 227 Sta inseguendo Sartori Quindi è Tottamaro Che segue in quinta posizione Il gruppetto Dei primi 4 Dionisi Intanto è sempre lì L'attacco Dato attenzione Ferrari è andato largo Ferrari largo Sartori Non ci ha pensato su Neanche Una mezza volta Per rinfilarsi all'interno E passare così Giuliano Ferrari Quindi Ferrari Dovrà far valere La forza del suo 1000 Sul rettilineo Per cercare Di passare Sartori Infatti Giuliano Ferrari Corre con Suzuki 1000 Sartori Se non erro Dovrebbe correre Con una Yamaha R6 Infatti Yamaha 600 Lo vediamo poi adesso Sulla classifica Gasparini E qua All'inseguimento Di quella moto Gialla e nera Che sembra la Pemaia Vederla così lontano Ma in realtà è una moto E guardate Ferrari Come prova La staccatona In fondo A rettilineo Del terrapieno Ci sta Ci sta Grande sorpasso Di Giuliano Ferrari Ha fatto valere Sì i suoi cavalli Ma in staccata Ha dovuto far valere Anche la sua mano destra Sulla leva del freno Per riuscire a restare In pista Intanto guardate Lì Dionisi Come prova L'attacco su Fabio Signorelli Come dicevo La scorsa gara Si giocava alla vittoria Adesso si giocano La decima posizione Cos'è successo Nell'universo Cos'è successo Non si sa Sto facendo 8 gare 8 gare Signorelli Tra l'altro Vero bisogna ricordare Che fa 3 gare oggi Quindi ha fatto già La 1000 Cioè fa questa gara Poi la 1000 E poi farà un'altra gara Sempre della race attack Non so quante gomme Cambi Però In senso magari Infatti è entrato nel suo box Visto che c'era una discarica di gomme Che sono quelle Non avrebbe messo le gomme A fine gare Intanto Signorelli Si dispa Così di un pilota Davanti a lui E si getta All'inseguimento Di quel puntino giallo Forescente Che abbiamo visto in precedenza Che è la moto di Alberghini Emanuele Alberghini Numero 183 Alla sua prima gara Della vita Sta cercando anche lui Di capire da che parte si gira Mentre mi sa che Mele L'ha già capito Prima di tutti Da che parte si gira Guardalo lì La sua Yamaha 6 Bianca Blu C'è il cerchio oro Cesare Tricerri Intanto dopo il bel sorpasso Nelle prime fasi di gara Sta cercando di amministrare La gara Mantenendo la sua posizione Se andiamo intanto a vedere Anche un po' Come sono i tempi Di questa gara Possiamo anche vedere Che Giuliano Ferrari Sta comunque girando Sull'ordine del 16 Gasparini intanto Si è accodato A questo bel gruppetto Nel quale c'è anche Stefano Tammaro E intanto Guarda Dionisi Dove passa Guarda dov'è passato Daniele Dionisi Non ci posso credere Che bello che gli ha fatto Non ci posso credere Quello che gli ha fatto Un sorpasso fuori di testa Alla Valentino Tipo straccio di licenza Tipo catalogia Fuora straccio di licenza E intanto Luca Tettoni All'inseguimento di Baroni Ne avevamo parlato all'inizio della gara Di Roberto Baroni Una new entry Di questo campionato Della Race Attack La prima volta che lo vediamo Non so di preciso Se sia anche la sua prima gara della vita Purtroppo non ce l'ha scritto sul forum Presumo di sì Facciamo finta che sia la sua prima gara Facciamo finta che E la sua prima gara qua Facciamo finta che sia la sua prima della vita Sta comunque cercando di mantenere la posizione Davanti a Tettoni Mentre Gasparini Guardalo lì che fa valere la sua potenza Del suo mille In fondo Al rettilino del terapieno C'è la grande staccata All'interno Ci sta Preciso Pulito Chirurgico Millimetrico Sequenza di parole Che ormai uso troppe volte Dovrò cambiarla Davanti a lui c'è Stefano Tammaro Con quella fascetta rossa Legata al braccio Significa che uno dei piloti Che aveva la ripresa in slow motion Lo vedremo tra un po' Nel replay E Gasparini adesso Cercherà di disfarsi Anche di Stefano Tammaro Dizionare di sinonimi Guardalo lì Guardalo lì La slow motion Alla partenza Il primo giro Con Graziano Mele Che guida il gruppone Non ci sarà ancora cadendo Dentro il casco Anche se mi sembra bello lucido Da mantenere la prima posizione Come se niente fosse Come se fosse Il suo mestiere tutti i giorni Ferrari che piega Sartori Tammaro Aggressivissimo Guardalo lì come va Giù con la moto Sembra quasi che stia cadendo Invece la moto Sta su Quasi come per magia E guarda lì dietro La moto bianca Che si straia per terra Gli è proprio partito L'anteriore In staccata Pazzesco E lì c'è un avvallamento È molto Molto lessioso Ostico Molto ostico Quando ci passi Con i freni in mano Guarda 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 il casino Che ha creato dietro Quella caduta Perché giustamente Hanno dovuto tutti Frenare Alzare la moto Andare dritti E si crea un effetto a catena Che se non sei rapido Anche a me molti anni fa È capitato un incidente Proprio lì Ma hai detto che la moto Non si era salvata Molto bene Mi hanno distrutto un po' Guardalo qua Intanto Angelo Pilla Con la sua moto Gentilmente concessa In prestito da Nova Mamma mia Che spettacolo Questa ripresa in slow motion 400 fotogrammi Al secondo Si vedono le razze Dei cerchi che girano Guarda questi cerchi Stroboscopici Di Stefano Tamaro È bello vedere Come i piloti Lascino le dita Dalla leva del freno Riprendono in mano il gasco E lì sono delle riprese bellissime Pazzesche Sono quelle taglie Che non vedresti mai A velocità normale Intanto Luca Tetoni Sul rettilineo Ne infila Due In staccata Vediamo se riesce Nel sorpasso Uno di quei due Era proprio Roberto Baroni Che resiste Alla grande All'esterno Ma Luca Tetoni Dovrebbe essere passato Che staccata Due piloti In un sol colpo Una confidenza pazzesca Così come Mele Guarda come vada a fare Le traiettorie Proprio giuste Uscito dalla curva Si butta tutto verso destra Verso il muretto Dei box Ha una confidenza Che non sembra Da Da prima E intanto Anche là davanti Stefano Tammaro Sembrava un affare Semplice per Gasparini Ma nel momento Che ho capito Che era Stefano Tammaro Ho capito Che in staccata Non c'è niente affare Signorelli Fa valere la potenza Del suo Kawasaki 1000 In fondo Al rettilineo E così Ancora prima di arrivare La staccata Ha già sopravanzato La moto del povero Alberghini Che purtroppo Con un 600 Non puoi competere Con un 1000 Quanto meno Nell'accelerazione Roberto Baroni Inquadrato proprio adesso Con la moto numero 6 Abbiamo visto il duello Con Con Luca Tetoni Tra l'altro Baroni Mentre Tetoni lo passava Baroni stava a sua volta Passando la moto davanti Quindi era riuscito Nel sorpasso Quindi insomma Complimenti a Baroni Per il bel sorpasso Effettuato Sintomo che Nonostante sia Probabilmente la sua prima gara La voglia di vincere La bagarre La sicurezza c'è Intanto guardate qua Gasparini Gasparini si sta giocando Il campionato Della categoria 1000 Infatti col fatto che Augusto Selvatici È più indietro Rispetto a lui Gasparini Oggi Sta Deve sfruttare assolutamente Quest'occasione Perché Sta guadagnando tanto Rispetto a Selvatici In classifica Aprendo così Riaprendo così i giochi Per l'ultima gara di Varano Luca Tetoni Intanto sta continuando Ad allungare Su Roberto Baroni Quindi il passo leggermente Più veloce E Dionisi Si sta avvicinando A quel puntino giallo fluo Che è la moto Di Emanuele Alberghini Giuliano Ferrari È sempre lì Nei tubi Incollato Al codone Di Graziano Mele Così vicino Che può addirittura Arrivare a vederne Il simbolo Yamaha Sotto il codone Può anche leggere La marca del mono Per capire se è un Allings Un VP O chi altro sia Guardalo qua In fondo A rettilino Giuliano Ferrari Sfrutta la potenza Del suo 1000 Per arrivare In staccata Davanti a Giuliano Ferrari Graziano Mele Giuliano Ferrari Così con la moto Blu e gialla Si porta al comando Di questa gara E si riconferma Essere l'uomo leader Di questa Manche Nella race attack Gasparini Guardalo lì In fondo A rettilino Vediamo se Tammano Che traverso Di Gasparini Staccata Staccata al limite Staccata al limite E anche oltre limite Per Gasparini Con questo sorpasso Semplicemente Perfetto Sindomo che anche Tammano lì L'ha staccata L'ha tirata Veramente forte Era un abbastanza al limite Se Gasparini Ha dovuto Faticare così tanto Per passarlo E adesso Dionisi Si Signorelli ha avuto Vita facile con Alberghini Ma Dionisi Dionisi comunque Si è avvicinato D'Alberghini Eh si è visto Però mi sembra Perdesse qualcosa Sul dritto Dionisi Non mi sembra Spingesse così tanto La sua moto Insomma a parità Io ho come l'impressione Che la moto di Dionisi Abbia qualche cavallo in più Diciamo un MV Augusta Un po' più nuova Mi sembra che l'MV Rispetto alla moto di Alberghini Qualche cavallino in più Ce l'abbia di serie Magari Alberghini Ha un motore Ah chi lo sa È vero Lavorato E mentre Mentre Dionisi No Quella MV è semplicemente Stocco L'abito non fa il monaco In questa categoria È messo È messo a regolamento Open Quindi Quindi esatto Puoi venire un po' Con quello che ti pare Esatto Insomma Piloti con moto 2 Non ho ancora visto qui dentro Però No 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 Calma Attenzione attenzione Perché Dionisi Dionisi è lì Dionisi è lì Guardalo come prova La staccata Alla curva 5-6 Mamma mia Che confidenza Che ha Dionisi In staccata Una roba Pazzesca Te l'avevo detto Che si era avvicinato Guardalo qui Tricerri Che si sta avvicinando A Selvatici Attenzione Perché Se Tricerri Superasse Selvatici Andrebbe a togliere I punti Un po' Un po' Un po' Un po' Un po' Per la categoria 1000 Punti che peserebbero Tantissimo Ai fini del campionato Mentre Giuliano Ferrari Una volta passato E scappato Sta letteralmente volando Sta facendo valere Non soltanto I suoi cavalli in più E intanto guardate qui La differenza Tra un 600 E un 1000 Sul rettilineo E' uscito forte Dionisi Ma Signorelli Nel momento in cui Sale di giri Non lo si vede più E la cosa divertente Anche di questo campionato Ovvero che Mischiano 600 e 1000 E c'erano anche delle neche Dall'inizio Però poi si sono Un attimo scoraggiate No C'è anche la categoria Naked Che è molto È molto vivace Oggi mi sa che non ci sono Delle naked Ah sì giustamente Iscrivetevi E' giusto che siano accorpati Alla loro Mentre tanto Questi due Che sembravano Essersene Starsene lì dietro Tranquilli Stanno continuando A fare una gara Incollati l'uno all'altro Stiamo parlando di Nicola Sartori E Angelo Pilla Sartori con la moto Grigia e rossa Angelo Pilla Con la Yamaha Con i classici Colori Yamaha Classicissima proprio Stanno conducendo la gara In seconda e terza posizione E si stanno anche Avvicinando pericolosamente A Graziano Mele Roberto Baroni Intanto andiamo a vedere Sui tempi Per vedere se è migliorato Rispetto alla qualifica Roberto Baroni Ha girato Ostia In 1.28 Aveva girato in 1.24 In qualifica Quindi insomma I tempi sono più o meno Grosso modo Allora ha disputato Una qualifica Non all'altezza Delle sue capacità Perché si Togli 4 secondi No 1.24 Ah ok Attenzione Guarda Dionisi Dove Mamma mia Mamma mia Cosa ha fatto Dionisi Questo è un omicidio Questo è un È un tentato Omicidio Da parte È un tentato Omicidio Allora C'è da dire Una roba Intanto attenzione Vediamo Gasparini Qui che va ad affrontare Il tornantino Oh Che rischio Mamma mia Ragazzi Che rischio Dicevo Dionisi È un pilota Che fa queste uscite Pazze In cui si infila In dei posti In cui dici Ma come fai Come ti salta In mente Sei fuori di testa Però l'ha sempre fatto In modo pulito Preciso Senza mai Senza mai fare incidenti Senza mai fare niente Speriamo che vada sempre bene Anche per gli altri No è uno di quei piloti In cui se Se vede che ci sta Anche di un millimetro Ma se vede che ci sta Lui si infila Se ne frega Non è che dice Aspetto il giro dopo Ma se vede la porta Lui si infila È giusto così Intanto rivediamo Questa slow motion Bellissimo Con la BMW Numero 85 Di Cesare Tre Cerri Che tra l'altro Qui era davanti a Selvatici Non so se l'abbia Passato nel frattempo O se fosse di un giro precedente In cui Selvatici Era dietro E poi abbia passato Tre Cerri Purtroppo Non abbiamo 20 telecamere Come in MotoGP Più 26 telecamere In slow motion Da mezzo milione di euro l'una Ci arrangiamo Abbiamo 4 camera Men che fanno come possono Cerchiamo di riprendere tutti A volte capita di perderci Qualche sorpasso Ci spiace Ma meglio di così Al momento non si può fare Dicevo Graziano Mele Guarda che roba Guarda che roba E quei due hanno preso Graziano Mele Come ti dicevo in precedenza Ehm Tre Yamaha R6 A confronto Guarda che belli Questi riflessi Sulla moto Sul forcellone Sulla moto di Gasparini Che spettacolo Questa ripresa A 400 Fotogrammi al secondo Qui invece la lotta Tra Dionisi E Signorelli All'ultima curva Guardate che bella La moto di Dionisi Bellissima L'MV è stupenda Davvero Ma l'MV di Dionisi È proprio bella Curata Precisa E perfetta E intanto Inizia adesso Il penultimo Giro di gara Con Giuliano Ferrari Ancora saldamente Al comando Di questa gara Con indietro Graziano Mele Che sta cercando Di difendersi Dagli attacchi di Sartori Ma sta Iniziando ad arrancare Infatti guardatelo lì Com'è incollato Al codone Della Yamaha R6 Di Graziano Mele Sono tre Yamaha R6 A confronto Non si salanno Anche se sono sempre uguali Ben o male Qualunque anno Siano a vedere da fuori Sembrano tutti uguali E qua si sta cedendo Un treno Veramente Veramente Pericoloso Interessante Pericoloso Interessante Tanto guardate L'effetto dei cerchi Sulla I cerchi della moto Di Stefano Tammaro Mezzi bianchi Mezzi verdi Ti mandano un po' Poco vistosi Ti mandano un po' Lì guardi e dici Wow Cosa sta succedendo Come quelle immagini Che le vedi Sembra che si muovano Invece sono ferme È il tuo cervello Che se le sta immaginando Mentre Il cervello Di Giuliano Ferrari Si sta già pregustando Quella che arriverebbe ad essere La prima vittoria Dopo dieci anni Di stop Dalle gare Un traguardo Risalire in moto Fare la pole La vittoria Meglio di così Che cosa ti aspetti Basta vincere anche Gara 2 E sei a posto Svegliarsi tutto sudato Esatto Qua invece è vero O stiamo dormendo anche noi Anche voi che ci state vedendo Oppure è tutto vero Inizia l'ultimo giro Di gara Con Graziano Mele Che adesso più che mai Sentirà la tensione La pressione Di quei due là dietro Che si stanno trasformando In due bestie In diavolate Che vogliono fare di tutto Purché Non restare dietro La moto di Graziano Mele E sarà una battaglia Veramente All'ultimo sangue Intanto Alberghini si sta difendendo Come può Intanto Daniele Dionisi Guardalo qua Come si lancia Sul rettilineo Contro la moto di Stefano Tammaro Ma ce n'ha di motore Tammaro là davanti Ti ripeto il discorso Secondo me L'MV è stock Mentre queste onda Magari sono un filino Più elaborato Esatto Questo è possibile Ed ecco perché Dionisi Per passare O si infila Assassino dove può Oppure E deve guidare Non può contare Deve guidare Deve guidare Punto Non c'è nient'altro a dire Intanto qua Giuliano Ferrari Sta per andare a ipotecare La sua prima vittoria Dopo dieci anni Di assenza dalle corse Con Dionisi Ancora lì all'attacco Di Stefano Tammaro Guardalo qua Come si affaccia La curva 3-4 Straordinario Semplicemente Straordinaria La gara Di Daniele Dionisi Che partiva a quattordicesimo E adesso Guardatelo qua Dov'è Si trova In L'ottava posizione Sei posizioni guadagnate Non in partenza Che in mezzo a questa bagarre Valgono tantissimo Col sudore della fronte Una per una Se le guadagnate Con tanti sorpassi Tanto Tricerri Si guarda dietro Sembrerebbe un po' Aver mollato Dice tanto Mancano poche curve Teniamo l'energia Per gara 2 Ha mollato forse anche Luca Tettoni Quando non doveva mollare Infatti è stato sopravvanzato Da un'altra moto Un 600 però Che comunque non va A togliergli punti Per la categoria 1000 Quindi chissà Magari sta risparmiando Anche lui L'energia per gara 2 E Baroni Insomma Gara 1 Gara 2 Poi gli permette ai piloti Di fare qualche conto Sulla classifica Esatto Quindi La match decisiva È quella dopo Quindi Intanto L'ultima curva di questa gara Che si è rivelata essere La sua gara della vita Forse al ritorno Dopo 10 anni Di assenza dalle corse Graziano Mele Una staccata poderosa All'interno Riesce così a tenere La seconda posizione Mentre Giuliano Ferrari Transita sul traguardo Da vincitore È lui L'uomo da battere È lui il leader Di questa match È lui l'uomo che ha vinto Mentre dietro Pilla si dispera Per non essere riuscito Ad arrivare a podio Mamma mia che gara Che hanno fatto quei tre Mamma mia che gara Che hanno fatto questo qua davanti Mamma mia che gara Che hanno fatto dietro Una gara perfetta Sei giri E Sette milioni Sembrato di vedere Oh Intanto guarda qui Alberghini Se l'è vista brutta Con quel pilota dietro Che per evitarlo Ha dovuto arrivare lungo Con la ruota dietro Che spazzolava la pista Baroni Intanto fino all'ultimo Ci ha provato su Luca Tettoni Anche perché ha intravisto La possibilità di infilarsi davanti Ma Luca Tettoni Gli ha detto di no Questa posizione qua è mia Come dicevo Ferrari Una gara perfetta Straordinaria Ha rimontato Dopo la brutta partenza Ha avuto il sangue freddo Di passare Mele E Nient'altro da dire Mele Gara fotonica Fotonica Prima gara nella vita Secondo Grande padronanza Ma attenzione Prima gara nella vita Secondo su 33 Partenti in greggio E poi è il primo Delle 600 Tra l'altro E del primo Delle 600 Questo è importante Sono 25 Ferrari Ha vinto Ma un mille Ha vinto ma un mille Giusto quindi Graziano Mele È il primo della 600 Questo è da sottolineare Nel senso Anche se il podio Poi dovrebbe essere generale Ma comunque I punti in classifica Valgono per la 600 Graziano Mele È il primo della 600 Dietro lui Sartori Angelo Pilla Sono quei tre Che si sono giocati La seconda posizione Con un Graziano Mele Fotonico Che è riuscito a mantenerla Gasparini Che è una gara bellissima Piena di sorpassi Così come quella di Dionisi Stefano Tamaro Partiva bene davanti Ma poi ha avuto Un po' Un calo in gara Non è riuscito A mantenere la posizione Infatti Stefano Tamaro Se andiamo a vedere La grida di partenza Partiva qua Partiva Decimo Scusate Mi sono confuso Caccellate tutto Rewind Tornate indietro Qualche secondo Tamaro ha guadagnato Una posizione Partiva decimo Chiuso nono Quindi sicuramente Una bella gara Però ci aspettavamo Di meglio Visto Aveva fatto vedere Delle grandi cose Esatto Invece niente Quello che mi ha stupito In negativo È Signorelli Che ha girato Sei decimi più lento Rispetto alla gara E non è riuscito A mantenere Quel passo lì Rispetto alla qualifica Scusa Non è riuscito A mantenere Quel passo lì Che aveva in qualifica Chissà se riuscirà A risolvere I suoi problemi Per la prossima gara Perché è uno Che di solito Può arrivare a girare In 15 Lotta per le posizioni Che contano Può arrivare a girare in 15 E qua girare in 15 Significa vincere Senza neanche vedere gli avversari Esatto C'è qualcosa che non va Dovrà studiare E mettersi di nuovo A posto Per la prossima gara di Varano Alberghini Bella gara la sua Se difeso come può Anche lui prima gara Che altro dire Bellissime gare anche dietro Anche per Tricerri E Tettoni E Roberto Baroni Ci vediamo subito dopo Perché adesso inizia Gara 2 Prendetevi pure una pausa Fate un break Bevetevi una birretta E ritornate più carichi che mai Perché in gara 2 Vedrete veramente I numeri da circo Ci vediamo tra poco Per gara 2 Che se le danno di brutto Evidenti Grazie a tutti Grazie a tutti